Il mondiale in Qatar si conclude nel più pirotecnico dei modi, con quella che è già stata ribattezzata la partita del secolo. Come quella del secolo prima, anche questa ha seriamente rischiato di finire 4-3. Al minuto 120, sul 3-3, Colomoni, giovane attaccante francese, si è lanciato diritto verso la porta argentina e due interi paesi hanno trattenuto il respiro. Il suo tiro è partito forte e preciso, ma Emiliano Martinez, un portiere che fino a due anni fa, pur avendo 30 anni, non era mai stato titolare in vita sua, ha aperto il compasso delle gambe e in una posa da ginnasta glielo ha respinto, portando la finale probabilmente più bella di sempre ai calci di rigore. Prima della parata di Martinez e di rigori conseguenti, c'era stata una partita alle cui emozioni è impossibile riuscire a trasmettere. Se non l'avete vista, perché magari ritenevate che questo mondiale non si dovesse assegnare al Qatar, non si dovesse giocare d'inverno, non si dovesse giocare senza di noi, o semplicemente non l'avete vista perché il calcio non vi piace, avete fatto male. Il calcio si conferma il gioco più bello del mondo, anche se lo mette in mani sbagliate o in posti sbagliati, e questa finale sta lì a testimoniarlo. E il gioco più bello soprattutto finché nasceranno due, come Lionel Messi e Kylian Mbappé. Hai voglia a dire che negli sport di squadra e nel calcio si vince e si perde in undici, ma se tra gli undici hai due come loro, tutto diventa più bello e un po' meno di squadra. Messi era l'ultimo appuntamento con la storia, vincere e diventare una leggenda paragonabile, ma si dai, adesso sì, a sua maestà Diego Armando Maradona, oppure restare quello che sì, ha vinto molti campionati, molte Champions, molti palloni d'oro, ma poi ha perso le due finali che doveva vincere, perché in fondo era fantastico, ma non così fantastico da fare quell'ultimo gradino verso la gloria eterna. Specie in Argentina, paese che ha lasciato bambino e che solo da oggi lo sentirà suo fino in fondo. A 35 anni suonati, in questo mondiale, è stato determinante sin da subito, da quasi subito in realtà, perché l'Argentina questo mondiale lo ha cominciato perdendo con l'Arabia Saudita, partita dopo la quale non in molti erano impronti a scommettere sull'impresa. Quella sconfitta, vista con gli occhi di oggi, aggiunge epicità al trionfo, perché dalla polvere è più bello riemergere. Anche il folle andamento della finale, dominata dall'Argentina per 80 minuti e poi incredibilmente recuperata dall'altro numero 10, Bappé, uno che ha 12 anni meno di Messi, ma che un mondiale l'ha già vinto e che stasera ha rischiato seriamente di vincerne un altro, praticamente da solo. Sì, perché la Francia fa tre gol e tutti e tre portano la sua firma. Sì, ma due sono su rigore, si potrebbe obiettare. Andate a tirare voi due rigori in una finale di Coppa del Mondo, se vi capita, e poi venite a ripetermi quanto è facile segnarli. Chiedetelo a Baggio per dirne uno. A dirla tutta, Mappé di Rigori oggi ne ha segnati tre, perché si è presentato per primo a testa altissima anche alla lotteria decisiva. E ovviamente ha segnato anche quello. I due campagni che sono andati su quel dischetto dopo di lui, Coman e Ciumeni, si sono invece fatti irritire dai riti disturbatori di Emiliano Martinez, uno della vecchia scuola, che i rigori è più bravo a farli sbagliare che a pararli. Se avesse potuto, Deschamps ne avrebbe fatti tirare cinque a Mbappé e a quest'ora il delirio sarebbe sui campi Elisei, non a Plaza de Mayo. Mbappé può provare a consolarsi con l'idea che di mondiali da provare a vincere gliene restano buoni tre, oltre che col titolo di capocannoniere del mondiale più bello degli ultimi 36 anni. Per trovarne uno a questi livelli, con una finale per pathos paragonabile a questa, bisogna tornare indietro al 1986. Per un caso, forse no, la giocava l'Argentina. Per un caso, forse no, era andata subito avanti 2-0 e a tutti parve che la pratica fosse chiusa. Per un caso, forse no, la maglia numero 10 ce l'aveva un certo Diego Armando Maradona, che sul 2-2 prese per mano la squadra e la portò a vincere. Se Mbappé non avesse ostinazione pari alla classe, sarebbe andata esattamente così, anche stavolta. Invece no, a 5 minuti dalla fine dei supplementari l'ha ripresa di nuovo, come aveva già fatto con la doppietta nel finale dei regolamentari. Si è procurato un rigore al 115esimo e Savasandir l'ha realizzato. Poi è andata come è andata ed è giusto così, perché di treni per la storia, Kylian ne vedrà passare ancora. Per Lionel da Rosario era l'ultimo e non lo ha perso. Non resta che ringraziarlo per i 18 anni di poesia che ha regalato a chi ama questo sport. Benvenuto nella leggenda.